Proponiamo di fare il punto sulla situazione certamente, ma proponiamo di fare un patto di svolta per la realtà siciliana e meridionale. Qui bisogna mettere insieme sindacati, imprese e istituzioni locali, oltre che le istituzioni nazionali, per decidere quali vantaggi diamo a coloro che intendono investire, perché non investe più nessuno e noi viviamo gli investimenti. Sì, credo che sono dati mai risaputi, c'è una fuga dal poco settore industriale che c'è in Sicilia e noi facciamo da sempre con molta responsabilità, forse anche più di quello che deve avere chi governa e chi fa politica, non a caso facciamo qua l'Ars, oggi facciamo una forte sollecitazione, proponiamo al governo, alla politica, tutta l'Ars di smetterla con questa risorosità inconcudente e di puntare in questa settimana a costruire con il sindacato e le parti sociali, sia al governo che all'opposizione, costruire veramente un patto dove si dividono misure che sia il governo che l'Ars sono a fare sulla crescita e sullo sviluppo, perché dobbiamo offrire aree attrezzate, competitive, sicure, legali, dobbiamo offrire fiscali di vantaggio, offrire condizioni affinché possiamo attrarre investimenti nuovi e possiamo favorire che quelle che ci sono restano e possono investire ancora. Può e quanto influire la fiscalità di vantaggio? Sicuramente che sono uno degli strumenti importanti che dovremo attivare e che saranno attivati a breve da questo governo, poi sicuramente bisogna correre sulle infrastrutture che ancora oggi sono carenti in Sicilia, perché si sono spesi nel passato grandi risorse, ma noi non siamo diventati la Svizzera nel Mediterraneo. C'è una sottovalutazione fortissima del ruolo che le grandi imprese hanno svolto e continuano a svolgere nell'economia siciliana. Ricordo un dato a chi ci ascolta, negli ultimi dieci anni il 90% degli investimenti fissi sono stati fatti da grandi aziende e ovviamente dalle aziende collegate all'indotto delle grandi aziende. Questi investimenti hanno consentito di rascimolare quel magro, più 0,6% degli anni prima della crisi. Senza questi investimenti noi avremmo avuto un PIL negativo già dal 2000-2001. Quindi hanno un ruolo importante sui territori perché danno occupazione diretta, ma anche tanto occupazione indiretta. Tutti questi investimenti che citavo sono investimenti che sono serviti a migliorare la qualità ambientale dei territori, in parte perché sono state applicate le direttive comunitarie, in parte perché c'è una maturazione anche in termini di compatibilità ambientale da parte di molte aziende. Oggi le grandi aziende, lo dico senza infingimenti, sentono nei loro confronti una diffusa ostilità, non tanto da parte della gente ma da parte di chi in qualche modo governa i processi autorizzativi e i rapporti con le aziende. Aziende che non hanno mai chiesto un euro di sussidi o di contributi dalla regione, che vogliono fare il loro mestiere, investire e continuare a dare ricchezza sui territori. Ma siamo preoccupati da molto tempo e spero che questa preoccupazione cessi. La classe dirigente deve recuperare concretezza. Mi pare che sia una rappresentazione teatrale quella che stanno dando. Loro devono provvedere al governo e alla comunità, facessero come vogliono, trovassero le soluzioni che vogliono. Si alleassero attuali maggioranze, attuali opposizioni, però devono garantire governabilità. Mentre l'Europa è preoccupata per gli smottamenti dell'economia e della finanza, qui continua un teatrino senza senso. Quindi noi vogliamo che ci sia più responsabilità. Anzi, l'appello che facciamo, tutte le forze sociali che si sono impegnate in proposte, come sapete, molto puntuali su come uscirne, noi chiediamo molta responsabilità. alla maggioranza senz'altro, che è la principale responsabilità, ma anche all'opposizione, devono trovare le soluzioni più idonee per rendere governabile il Paese, da qui alla fine della legislatura. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.